E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sempre qui sul nostro Mario Luigi Superstar Saga Oggi continuiamo La ricerca Della bacca ridolina Eh ma come cazzo mi hai preso dalla sopra? Oddio è quella pianta che è Allora io direi di uccidere prima questi cacacazzi qua No questo c'ha velena No allora Salto rimbalzo avanzato salto esplosio Cazzo si Cazzo cazzo Ok adesso possiamo concentrarci su questi due Perché quello lì è morto quindi Ok Se rimancio solo tu bimbo Adesso tra poco non rimani nemmeno tu Kaboom Lo sapevo No No Kaboom Fagiolotto Goomba selvatico Ma sti cazzo di nomi così Ammuzzo proprio No eh vabbè ho sbagliato Fate la cacata Oh non muore questo Però fino alla morte Vabbè guardalo guardalo che tosto proprio Ma vergogna Ma qui giù dove Ah no aspetta voglio andare Voglio provare prima sopra qua No devi togliere sta cosa Perché se no No Via lasciami Ah no ma qua non c'è un cazzo Quindi dobbiamo No Che cazzo Chi sa mi è arrivata un altro messaggio Non ho visto Aspetta ma da qua c'è un'altra strada però Ah bellissima Sono la nipote del grande vinghigno Questa è la mia stanza E se me lo consentite Come Consentite Come osate entrare nella stanza di una ragazza Ma dal momento che siete qui vi rivelerò il mio segreto Avete notato Sì ah vabbò Sì 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 Qua ci dice Solo stronzare Oh ma perché Cioè c'è qualche problema Che non lo becchi però Dunque ragazzi Questi qui sono Tipo Sono sparsi per tutto il mondo Quindi mi raccomando Non ne mancato nemmeno uno Poi vedete Se ci sta la gra Diciamo qui sotto Ci sta sta cosa in metallo Non ci possiamo andare Parliamo Li avete trovati tutti Se li trovate Aspetta che ha detto Ah no Mo se ne va Non ci posso parla più Buonanotte Ciao Ah ecco qui Questo qui è il boss Tank 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 Ci dobbiamo cambiare Però bello Bello Allora Tac Così Mamma mia Ecco qui Dobbiamo uccidere Questo qui Allora Cerchiamo di No Questa è abbastanza tosta Come battaglia ragazzi Ecco Ecco Cominciamo subito Non mi ricordo Così di pattern di attacco Però Allo salto schiantano Facciamo il doppio martello Ecco qua Subito No Cazzo Siamo morti Non ci credo Siamo morti Porca puttana Madonna No No Un'altra volta da qua No Che due coglioni Vabbè adesso Non ci fotte Non andiamo Non mi dovete Lascia sta Oh Hai capito Porco dio Lascia me sta Sì sì Riprendiamoci questi Però Ma andiamo dritti A sodo E ci Sì 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 Porta me ne 5 Per fare lo schifo Più totale Ponk Ponk Siamo morti Non è bello Proprio questa cosa La prima morte del gioco Mamma mia E mo la dobbiamo affrontare Però sto Sto Fermaccio Di merda Allora Però adesso Sai Che facciamo Ci curiamo Un attimo Perché Stiamo con le pezze Al culo Ok Può andare bene Vai 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 Muoviti Sto verme di merda Come cazzo Come cazzo Come cazzo si è permesso Cioè Boh No Non ci posso saltare addosso E vabbè Ma che cazzo Però Comunque ragazzi Se non sbaglio Dobbiamo colpirgli questi Non la testa Perché se li colpiamo Quelli lì Lui diventa più debolo Li dobbiamo far diventare Tutti di un unico colore Porco dio Ora dovrebbe Eccolo qui È diventato giallo Solo così possiamo Attaccarlo Diciamo Sì Guarda Che cazzo Già hai cambiato colore Allora Vediamo Tac Che poi Se lui Quando fa l'attacco In corsa Eccolo qua Ecco Gli colpiamo un coso Comunque diventa giallo Cambia colore Quindi stiamo attenti A quello che colpiamo Ecco Vedete Abbiamo cambiato colore No Tutti hanno cambiato colore Che palle Sarà un pochettino lunga Come battaglia No Manneggi Ma che cazzo Fai Oh Ce l'hanno fatta Che culo Allora Vai No È morto Ma che è Davvero Già è morto No Grande Non ci credo Pensavo durasse tipo di più Tipo 45 minuti Ecco la baccaridorina rossa Ce ne possiamo andare Affanculo Ah ma qui c'è qualcosa Sì sì C'è qualcosa Sì 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 Adesso dobbiamo andare dall'altro lato Ma mi ricordo Vedi Di qua No Lasciatemi Campare Porco Dio Luigi Sei sempre in mezzo Ai coglioni Eh Tefe fa 7 Cioè 7 punti Ti danno Delle merde Non so se vi rendete conto Allora Uccidiamo Questo stronzo Sono di metallo Questi Non schiattano Vabbè Alleluia Alleluia Allora Ah finalmente Vai Non capisco Non riesco a prevedere Quando fanno la corsa E quando vengono vicino Con sta lancetta di merde Allora per di qua Si può andare Sì Ok Qua che c'è Vediamo Grotta della bacca ridolina rosè Allora Onde evitare Io direi Un attimo Stavo per premere Tasti che non dovevo premere Direi di fare Abbiamo No 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 Non lo sciroppo Abbiamo una nocciolina Cazzo Allora facciamo Uno qua E l'altro qua Vai Qui che ci sta Tanto ma ce li riprendiamo I funghi Sicuro Infatti Un fungo E uno sciroppo Datemi qualche nocciolina Oh io le noccioline I funghi Ce li siamo Già rifatti Aspetta Qui c'è qualcosa Cazzo Mo sparisce Ecco Infatti Poim Ah cos'è giusto Puzzle game Mamma mia Alleluia E adesso Però Oh l'abbiamo presa Ottimo Cazzo Ho sbagliato Che modo ci fa partire qua Mannaggia Vabbè ragazzi Non lo prenderemo Quello Non è importante Vediamo un pochettino A che punto siamo arrivati Non saprei ragazzi Andiamo a vedere Un po' più avanti Magari salviamo più avanti Eccoci capo Mi avete portato I tre frutti Della bacca di dolina Sono commosso Bene Potete passare Andate sempre dritto Di qua Adesso lui muore Lol E via La strada si è aperta Noi due Non riusciamo a passare Di qua Ci eravamo nascosti Per aspettarvi Evviva Bene Non perdiamo altro tempo Avanti E giustamente Ci vengono a fottere La Gazzosa ridolina Qua non Non si vede nulla Quindi teniamo gli occhi Aperti Per vedere Che cazzo Ah Questo è tipo acqua Ok Che non possiamo passare I ricostituenti Ragazzi Servono Per chi è avvelenato Poi più avanti Vedrete Che tipo Cadremo avvelenati Trenta mila volte Comunque Voglio un attimo Controllare la mappa Per vedere dove siamo Ah siamo qua Ok Nome Bosco Ghigno Una da vota Questa No Info fratelli Tessera Ciao e ciao Allora ragazzi Io direi che Ci possiamo anche Salutare qui Nel prossimo episodio Andremo a trovare La Gazzosa ridolina Noi ci vediamo Alla prossima Mettete mi piace Condividete Commentate Soprattutto Noi ci vediamo Con il prossimo video Ragazzi Un saluto a tutti E ciao ciao Ciao